10 appuntamenti in altrettante città per riunire una platea di oltre 6.000 consulenti assicurativi sono i numeri di stile Alleanza Tour, il road show di Alleanza Assicurazioni che si è appena concluso dopo aver attraversato lo stivale da nord a sud. Un'occasione per fare il punto sui risultati conseguiti con successo nel 2018 e fissare gli obiettivi per il prossimo triennio ma anche per presentare stile Alleanza, l'innovativo e distintivo modello di relazione fondato su consulenza di valore, tocco umano e tecnologia digitale. È uno stile fatto di digitale, di tecnologia ma è fatto anche di valore, di consulenza di valore e soprattutto accompagnato da un tocco personale e il tocco personale è quello che deve fare la differenza perché vogliamo che ogni nostro cliente si senta trattato come singola persona, riconosciuto con nome e cognome, con i suoi bisogni, i suoi sogni e le sue aspettative. Per il quarto anno consecutivo Alleanza ha registrato risultati record con una nuova produzione nel 2018 di 2,4 miliardi di euro in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Siamo all'avanguardia in Italia e anche in Europa sul versante della digitalizzazione ma questo evidentemente non basta, bisogna tenere il passo dell'innovazione, per questo stiamo investendo fortemente sul piano della formazione e della preparazione dei nostri consulenti. Investimenti in tecnologia e informazione con una particolare attenzione ai giovani grazie a un programma dedicato chiamato Generazione Alleanza perché i nuovi talenti aiutano a crescere. Noi sui giovani da sempre lavoriamo perché in Alleanza si entra giovani, noi vogliamo attirare talenti e noi diciamo loro viene in Alleanza perché in Alleanza è molto più che fare l'assicuratore.